Francesco Renzetti è rientrato dalla trasferta con la nazionale Under 21. Convocato da Casiraghi per l'amichevole contro l'Austria, giocata mercoledì scorso e finita con un combattuto 2-2. Grande soddisfazione per il giovane difensore dell'Albino Leffe, classe 1988, ma anche per la Celeste che per la prima volta vede un proprio giocatore tra le fila della nazionale. Beh, sicuramente l'impressione è stata buonissima, un ambiente molto bello comunque che fa sempre piacere vestirla a maglia azzurra. Contento anche se poteva andare meglio forse. Comunque la prima volta che giocavamo tutti assieme di conseguenza diventa un pochettino più difficile. Però comunque l'esperienza c'è stata, è stata bella e quindi penso sia positiva la cosa. Francesco Renzetti ha dimostrato di essere un giocatore di talento e i presupposti sono quelli di un più che roseo futuro. A 12 anni ho avuto l'opportunità di andare a giocare nel settore giovanile del Genoa e sicuramente diciamo che ci ho provato. Poi comunque la fortuna e tante altre cose mi hanno portato qui. Però sicuramente quando sono partito l'idea non mi sfiorava neanche assolutamente. Renzetti si sta comportando molto bene con l'Albino Leff e pur essendo un difensore ha messo a segno anche un gol contro il Bari nella sedicesima di andata. E chissà che possa ripetersi. Magari avessi o facessi in questo finale di campionato qualche gol, sicuramente aiuterebbe la squadra. Sarei più contento io comunque perché il gol che ho fatto quest'anno è comunque l'unico che ho fatto nei professionisti e fare gol poi è sempre bello. Certo il primo amore non si scorda mai e per Renzetti il Genoa resta la squadra che lo ha cresciuto. Il sogno è quello di continuare a migliorarsi e magari tornare a casa tra i grifoni con un bel salto in Serie A. No vabbè qualche mio compagno che giocava con me in primavera ci sentiamo, della società non so niente e ancora sinceramente è presto anche se il sogno è sempre quello di poter tornare un giorno.